Ben 7 i gol con i quali la CF Pistoiese ha superato la rinascita doccia. Una prova perfetta quella delle ragazze di Mr. Biagiotti, una vittoria che fa dimenticare la sconfitta di Pontedera. Una goleada nel primo tempo con ben 5 reti che hanno di fatto deciso il match. Le siglano Rivo, Pucci, Bianchi, Menchetti e Nesci. Pressing e possesso palla per le arancioni che nella ripresa allentano un po' i ritmi e allora le avversarie ne approfittano e accorciano le distanze. Ma quando arriva la doppietta di Pucci e l'altro gol di Nesci, i giochi sono chiusi. Una gara a senso unico. Adesso la posizione in classifica è alta per la Pistoiese. E intanto c'è stato anche un altro rinforzo per la squadra, come quello della nigeriana Joe classe 90 che si sta allenando con le ragazze arancioni.